Una vera e propria granata è stata ritrovata all'interno di un garage in via Epomeo, zona ovest di Napoli. L'ordigno, inesploso, giaceva sul perimetro esterno della struttura. Nel posto sono accorse pattuglie dell'arma dei carabinieri e una squadra di artificieri, mentre la polizia municipale ha provveduto a chiudere la zona al traffico di auto e passanti per far brillare l'ordigno. I motivi della rinvenuta sono al vaglio degli inquirenti. Dopo gli episodi inquietanti avvenuti tra Soccavo e Rione Traiano, nelle ultime ore, con svariati colpi di arma da fuoco sparati per strada, c'è timore tra la cittadinanza. La dinamica appare alquanto sospetta, in quanto potrebbe rappresentare un atto intimidatorio di qualche gruppo criminale. Al momento, però, non vi sarebbero obiettivi ritenuti sensibili per le mire delle camorre locali, né tantomeno sono stati visti nei pressi del garage uomini o vetture segnalati alle forze dell'ordine.